Equilibrata la sua squadra nel primo tempo, non ha concesso spazi se non un colpo di testa a Ferrari, ha colpito nell'unica occasione in pieno recupero, poi l'ha gestita molto bene. Sì, devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bellissima partita, probabilmente la migliore di questo inizio del campionato. Per la prestazione e considerando anche la forza dell'avversario, la qualità dell'avversario che ha controllato bene nel primo tempo, come diceva lei, solo concedendo colpo di testa di Ferrari, secondo tempo concedendo qualcosina in più, però ho sempre avuto la sensazione che potesse controllare abbastanza bene la partita e anzi poter anche sfruttare qualche ripartenza che non siamo riusciti a fare. Però siamo stati bravi, forse il gol del primo tempo ha un po' indirizzato la partita, anche dal punto di vista del morale per i miei ragazzi, poi è venuta fuori questa vittoria che ha grandissimo valore per noi, per la classifica, per il blasone, per la forza di un avversario. Quindi veramente tanti complimenti ai miei ragazzi. Poteva essere un campanello d'allarme l'infortunio nel primo tempo al suo quinto a sinistra perché stava interpretando bene la partita, lì Parodi, poi Trato Milani ha cambiato la partita, è inutile girarci intorno. Sì, perché poi il carcio ha fatto anche di queste cose, magari decidi di fare un cambio perché Parodi comunque stava bene, è un periodo che sta abbastanza bene fisicamente e quindi avevo deciso di farlo giocare e si fa male e fa Milani che poi entra. Quindi a volte succedono anche di queste cose, però mi dispiace per Parodi perché come diceva lei aveva fatto un buon inizio, era motivato, voleva far bene e quindi l'infortunio è sempre un problema per noi perché per noi tutti i giocatori sono importanti. Se poi ci mettiamo anche poi la squalifica di Milani che domenica non ci sarà e quindi insomma si complica un pochettino la situazione per domenica. Però ecco, è così, questo cambio sicuramente ha spaccato la partita anche perché Milani ha delle caratteristiche che possono cambiare un pochettino il volto della partita per la sua rapidità, ha fatto tante cose belle anche nel secondo tempo. Sicuramente è entrato bene, questo è un aspetto positivo perché il fatto di essere stato fuori a volte per i ragazzi può essere un po' pericoloso dal punto di vista mentale, invece lui ha capito che oggi magari era il momento di altri e quando è entrato possiamo dire che ha fatto anche la differenza. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo, che ha analizzato, che ha studiato bene il Pescara è evidente perché la squadra era messa benissimo in campo, mi dice qual è il segreto che fanno anche un po' tante squadre ultimamente di punire una difesa del Pescara sempre allo stesso modo, lei come l'ha studiata? Ce lo può dire? Oramai è finita la partita? No, è studiata, è chiaro che prepari una situazione, era quella di portarli in una zona di campo dove noi eravamo preparati, meglio preparati. Quale? La zona di sinistra degli avversari, ma non perché ci possono essere dei difetti dell'avversario, perché scegli una zona dove magari per te può essere anche migliore, perché per noi è una zona migliore per tanti motivi, perché abbiamo un attaccante che ha certe caratteristiche, perché noi dobbiamo mettere anche i nostri giocatori nelle migliori condizioni e allo stesso tempo cercare di creare qualche problema a un avversario. Però Pescara non ha fatto questo, te sei tranquillo, poi ci sono tante armi, abbiamo visto anche i cambi che ha fatto, che hanno cambiato anche il volto della partita, perché è entrato a Clemenza che ha dato una spinta notevole alla partita, poi dopo le situazioni sono tante, i ragazzi sono stati bravi a mettere in campo quello che avevamo preparato, direi per tutta la partita. Posso fare una domanda? Grazie, complimenti. Sì, un secondo, sì, una domanda da solo, veloce. Aspetta, un secondo Massimo che metto l'audio all'allenatore, un secondo solo, vai. Buonasera, buonasera Maraia, ecco ma era proprio una curiosità, la scelta di impiegare e di utilizzare Parodi nelle sue intenzioni era più conservativa rispetto a Milani? Così era una curiosità. No, no, perché comunque hanno caratteristiche abbastanza simili, perché anche Parodi ha questa capacità anche offensiva, perché ha capacità anche nel dribbling, anche Parodi, chiaro Parodi ora non ha una grande condizione fisica, quindi magari non poteva avere grande autonomia, però il mio era solo un cambio, perché Milani nelle ultime settimane magari mi era sembrato un pochettino stanco, quindi avevo preferito Parodi. Sì, ma non assolutamente, perché direi che sono assolutamente simili come caratteristiche, è chiaro, con condizioni fisiche diverse ma abbastanza simili. Quindi, ecco, avrei voluto da Parodi le stesse cose che poi dopo è riuscito a fare Milani, però purtroppo l'infortuna non gliel'ha impedito.